e questa è coltare monumento che non fa sbangerare, non suona, è una tristezza esce senza fare sbangerare, si suona il tamburo e non fa correre rischio a cavallo, hanno deciso di non correre tra poco e invece di apprezzare il lontano monumento e a bordo che fanno il saluto al palco di Abitani vedete che il monumento esce nel giro della pista poi escono e entrano in comune da dove sono usciti che dietro quell'angolo c'è il palazzo comunale mi ricordo che il monumento c'era Montiego, l'ultimo tempo montava contra Mari poi la nuca di ieri sera al canapo ha impedito a Mari per una leggera infortuna spalla di correr era montato cuscetto ma dopo la prova di Stamani hanno visto il cavallo che non era in ordine e hanno preferito non correre questo è lo settato di bordo e porto a Stocchi di Sion e porto a Stocchi di Sion in contavo un po' di stocchi di Sion e un po' di stocchi di Sion ancora ragazzi qui non c'è la volta di Stocchi di Sion un po' di difetto non so bene vi ho messo la storia se sapete bene anche questo questo è la parte montata ovviamente l'uomo Grazie, abbiamo l'alzata. Saluto. le 5 e mezza chiudeva un pazza i bambini questa è la monta da burro questi bambini che tirano fine era breve passeggiare la storia perché il monumento non ha fatto la spanderanza orgo